Buonasera, benvenuti alle interviste singole. Dopo il grande successo della scorsa stagione, apriamo questa nuova con un grandissimo e graditissimo ospite. Come ormai è nostra tradizione, noi ospitiamo solo personaggi di un certo spessore, sì, popolari certamente, ma quasi sempre problematici, scomodi, che fanno molto parlare di sé. Per non smentirci, questa sera abbiamo con noi niente poco di meno che Fabio Fibbia. Accogliamolo con un grande applauso. Allora, il nostro Fabio Fibbia ci ha già avvertiti che si esprimerà solo ed esclusivamente in versi. Chi lo conosce sa già perfettamente qual è il suo linguaggio. E allora, iniziamo la nostra intervista singola. Benvenuto, Fabio Fibbia. È vero che tu lo mostri del compagno? BAU! Te dico solamente BAU! E se te dico solo BAU! È perché te voglio dire BAU! 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 Bene. Inoltre, volevo anche chiederti, si dice spesso che tu non lo mostri, ma è vero? molto bene come vi dicevo il nostro Fibbia si esprime solamente con i versi volevo farti un'altra domanda allora Fibbia si dice in giro che tu non ami molto l'Igozio ma possiamo dire che veramente sia così? SQUIT te dico solamente SQUIT e se ti dico solo SQUIT è perché te voglio dire SQUIT SQUIT ecco e come ultima domanda al nostro ospite Fabio Fibbia provocatorio come al solito della segressiva come lo conosciamo ecco quando è che la prossima volta farei un passo ti dico solamente e se ti dico solo è perché non sono che così lo vuole fa ma comunque Mazinga è frocio ecco allora salutiamo con un altro applauso il nostro ospite Fabio Fibbia e buonasera ecco ecco Grazie.